Bene, è di nuovo sabato e non c'è sabato che si rispetti senza una nuova puntata dei riassunti del Cronovisore. Seconda parte del libro di Esdra, e se non sapete di che cosa stiamo parlando andate a recuperare le puntate precedenti. Il capitolo 7 descrive il ritorno del sacerdote Esdra a Gerusalemme. Ovviamente con il sostegno reale per rafforzare la pratica religiosa e giuridica della legge di Dio tra gli israeliti. Ma non solo, perché gli forniscono anche oro, suppellettili e l'ordine di educare alla legge di Dio anche quelli che non ne sono abbezzi. Pazzesco quanto si è ammorbidito il cuore di Re Arta Serse con l'aiuto di Dio. O grazie al potere della narrazione. Guarda ti dico, una volta qua era tutta campagna, c'era un tempio gigantesco e praticamente piava da là a là. Uh, che ha fatto? Eh no, hai detto alla, quindi pensavo, che è alla? No, niente, è un po' di confusione sulle linee temporali, una cosa mia, va avanti. Dicevo, sto grande regno, sto grande tempio, comunque dominavamo su tutto e su tutto. Sì, ma allora, ma come ci siete finiti schiavi dei babilonesi? E niente, un giorno è sceso Dio, ha chiesto a uno del popolo se c'era da accenne, questo gli ha risposto non fumo. E beh, può succedere, può succedere, d'altronde ogni decisione di Dio è cosa buona e giusta. Senti, a proposito, mi firmi sto foglio che è una raccorta firme per comitato. Ma certo, che comitato? E niente, per comitato, ripristino delle cose del tempio, capito, l'oro che conteneva, però riprendendolo direttamente dal regno di chi ci ha catturato. Sì, vabbè, ma quando ti ridanno? E poi quando ti ridanno? C'è il documento antico firmato dal re Arcaserzer, fresco fresco, carta carta bello mio. Carta? Qualcuno c'ha una carta? Da cinque magari? Il capitolo 8 narra i preparativi, il viaggio e il ritorno in patria degli esiliati, enfatizzando sulla scrupolosa gestione delle offerte al tempio, ma anche degli arredi. Non sempre però le cose vanno secondo i piani. Allora, signori, abbiamo un problema. Non ci sono gli arredi per il tempio. No, è una disgrazia, come faremo? No, che notizia terribile. E c'è solo una cosa che possiamo fare per rimediare. Guarda, se mi date cinque euro, io faccio un sarto al villaggio vicino e compro due cosette, una candela, un centro tavola, due tuaglioli. Sì, mio profeta, non ci resta che umiliarci di fronte al signore. Guarda, signore, come mi umilio. Guarda, guarda la mia dignità, come la calpesto nel tuo nome, signore. Guardami, guardami. No, ma te giuro che con cinque euro qualcosa ci compro. Non c'è bisogno di far così in serve. Nel capitolo 9 si evince a chiare lettere come il rapporto con Dio, l'osservanza delle sue leggi. Porta senza ombra di dubbio ad un mondo più inclusivo e pieno d'amore. Infatti il capitolo 9 si apre con la preghiera di pentimento di Esdra. Dopo aver scoperto che molti israeliti, compresi sacerdoti e leviti, si sono mischiati alle popolazioni locali tramite i matrimoni, corrompendo la purezza della stirpe santa. Le conseguenze di questo, nel capitolo 10, saranno le deportazioni forzate dei familiari impuri, tramite treni che arrivavano sempre in orario. No, mo tu me devi spiegare una cosa. Niamo fatto tutto sto casino. Siamo in basi dei prigioni, avemo travalicate le dimensioni, se siamo messi a discutere con Blemmo de merda e te stavi qua in villeggiatura. Non è giusto, Gab. Non me lo merito. Io ho pianto per te. Cos'è questo atteggiamento che preannuncia una love story tra noi due di cui non so nulla? Non avrete mica fatto un sondaggio in chat dove ha vinto la ship tra me e lui, vero? Dai e va. Hiamo perso pure abbastanza tempo. Dice come tornate là anche perché tocca andare avanti col cronovisore che quello sta fermo senza di noi, eh. Veramente sta andando avanti? Ma come sono andati avanti? E chi lo setta? Comunque non possiamo tornare indietro. Serve qualcuno con abbastanza onnipotenza da aprire il portale dall'altra parte. E beh, che ce vuole? Chiamiamo mamma e papà, no? Sono di nuovo in vacanza in un altro universo. Mortacci loro? Vabbè, c'è coso? L'ultimo arrivato, come si chiama? Sandro o Spirito Sandro? Effettivamente lui potrebbe avere il potere giusto. E allora è fatta, dai, chiedemo a Sandro di aprirci il portale e tornavo da là. Che ce vuole? Ed infine prosegue la saga che ha appassionato grandi e piccini di tutto il mondo. Il Proto Paradiso. Signori, c'è un altro problema. Ho visto uno che corre a Erzo Est con un candelabro d'argento sotto il braccio. Non so stato io a rubare il candelabro, eh. Visto mai qualcuno sospettasse. Molti di voi durante il tempo dell'esilio si sono uniti con mogli straniere e con esse hanno generato dei figli. Eh, beh, di loro. Che terribile disgrazia. Ma perché hai divorziato e gli devi pagare alimenti? Per rimediare a questo ignominioso peccato verso Dio non ci resta che una cosa da fare. No, per favore ti butta per terra come prima perché è stato imbarazzante, eh. Certo, mio profeta. In nome del Signore cacceremo tutte le mogli straniere e le figlie che con esse abbiamo generato. E chi rifiuterà verrà votato allo sterminio. Quanto mi piace sta religione, oh. Così vuole il Signore. Ma il Signore è quello con i baffetti a paresi al braccio. No, perché questa è una deportazione forzata. C'è qualche problema? No, no, che problema? Che problema c'è? Anzi, se mi dai 5 euro ci accompagno io. Per oggi ci salutiamo qui perché al capitolo 10 finisce il libro di Esdra. Sabato prossimo cominceremo il libro di Nemia che ci accompagnerà per due settimane. Nel frattempo sulla parrocchia viola LibLive è andato in pausa estiva e riprenderà a settembre. Quindi abbiamo tutto agosto per recuperare e cercare di metterci in paro. Noi qui stiamo vedendo le puntate andate in onda su Twitch in live a settembre dell'anno scorso. Ma ad agosto rallenteranno anche le dirette. Avremo una programmazione più leggera anche perché mentalmente mi devo riposare pure io. Certo questo non è un lavoro che t'affatica fisicamente ma anch'io arrivo al cosiddetto periodo delle ferie un po' fiacco e ci ho bisogno di ricaricarmi. Solitamente sfrutto agosto per fare una full immersion su vari libri che poi mi daranno lo sprint per ricominciare a settembre. Quindi domani probabilmente sarà l'ultimo video classico della domenica per l'estate. Continuano ovviamente ad uscire video perché questo lavoro non prevede ferie. Ma probabilmente per agosto avremo solo i video dei riassunti del cronovisore. Vedremo che il Signore protegga e glorifichi il nostro cammino di dissacrante blasfemia.